salve ragazzi buona giornata a tutti sono andrea bruno in questo momento mi trovo all'interno delle petronas tower mi sono rinchiuso in questo gabbiotto un gabbiotto metallico che essenzialmente non riesco a capire neanche cosa stia simboleggiare comunque ho trovato questo gabbiotto che ha anche due monitor mi sono rinchiuso da solo questa volta ce l'ho fatta e sto godendo anche della frescura perché questo posto è tutto climatizzato tutto climatizzato ecco qui siamo all'interno del centro espositivo all'interno delle petronas tower è un centro espositivo un centro museo e ecco probabilmente adesso questo gabbiotto se io schiaccio un bottone comincerà a salire o a scendere non so cosa succederà intanto noi a questo punto ci sentiamo alla prossima ecco qua mi sto guardando all'interno di questi monitor che hanno messo apposta per tenermi sorvegliato speciale perché ragazzi ciao a tutti ciao ci sentiamo alla prossima